Sì, sì, anche perché il tempo corre, quindi siamo alla stretta finale, siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo insieme, ci si vede ogni settimana, ci si incontra, l'obiettivo è adesso a pochi metri. Sì, però, chiaramente si è detto 16-18 mesi per la chiusura dei lavori, mi tiene questo un cronoprogramma che sia passibile di essere rispettato? Speriamo di sì, noi lavoriamo con la forza del Comune di Napoli e del Calcio Napoli, se ci si mette insieme nulla è impossibile e soprattutto dobbiamo cominciare quest'estate, io sono molto fiducioso perché c'è un bel clima, si è lavorato bene, c'è una grande condivisione su quanto sia importante lo stadio per la città di Napoli, per la squadra, per i tifosi e quindi ci sono tutte le condizioni per realizzare obiettivi importanti. Cominciare prima o dopo i concerti? Si deve cominciare quest'estate, poi non sono io la persona che può indicare la data di inizio dei lavori, però noi lavoriamo perché luglio e agosto si cominciano a fare interventi significativi. Cosa dice Benitez? Lui ieri ha salutato la città? Ha usato parole molto belle per la città di Napoli, devo dire, io ho percepito sin dal primo momento di un suo legame forte con Napoli e Napoletani, tanto che ne ha parlato sempre bene sin dal primo momento, al di là della squadra e del calcio, ha avuto un rapporto vero con Napoli e con la città e questo per me che sono il sindaco di Napoli è un fatto molto importante. Poi speriamo che ci regali insieme alla squadra una grande vittoria domenica sera perché il nostro campionato passa per Napoli-Lazio. E' deluso un po' di questa stagione del Napoli? Questa è una domanda che deve essere fatta domenica sera. Sarà lo stadio? Sì, sì, certo.